Ma secondo voi è normale che in questo momento di crisi economica l'Europa su input dell'America continui a mantenere delle sanzioni nei confronti della Russia che io definisco totalmente demenziali con il conseguente embargo russo sui prodotti italiani che sta portando a una crisi delle esportazioni clamorosa? Le sanzioni russe costano in termini di esportazione all'Europa circa 100 miliardi di Euro, circa 2 milioni di occupati, all'Italia si fa un calcolo che le sanzioni portano a un danno economico di 12 miliardi di Euro sulle esportazioni e circa 250 mila occupati in meno, se questa è l'Europa che piace a Khalid Chauky è sicuramente l'Europa che non piace alla Lega, che non piace a me, che non piace a Matteo Salvini.